E benvenuti e benvenuti, siamo sempre qui con Radio FSC Unimore, la radio dell'Università di Modena e Reggio Emilia, siamo al Festival del Domani, che quest'anno si titola Tempi Radicali, siamo qui con Rocco Tanica. Ciao Rocco, grazie per essere qui con noi. Grazie dell'invito. Al termine del suo intervento, Intelligenza Artificiale, Algoritmi e Letteratura, dove Rocco ci ha raccontato un po' il suo rapporto con l'intelligenza artificiale e poi Rocco, possiamo dirlo, tu hai scritto un libro a quattro mani con ChatGPT. Sì, non con ChatGPT, ma con una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale, ricordiamoci che ce ne sono decine attualmente, ChatGPT è quella più nota, e facendo questa sorta di botta e risposta tra me e la macchina, vista l'interazione possibile. Come ha detto prima molto correttamente il relatore Cottafavi, è utile fare un distinguo, cioè nel grande dibattito sull'intelligenza artificiale c'è un errore di fondo, e cioè l'abuso della parola intelligenza. Ricordiamo che quella che abbiamo attualmente a disposizione non è intelligenza, se è vero come credo che sia vero, che l'intelligenza è la coscienza di sé. È piuttosto un elaboratissimo meccanismo statistico e matematico a base probabilistica, scusate se vado un po' nel tecnico, che è stato istruito con una tale mole quantità di testo da riuscire a darti risposte attendibili, plausibili, su base statistica e probabilistica. Cioè se tu dici, esco a farmi un giro e incontro, e poi lasci alla macchina il compito di concludere, è più facile che ti dica un amico che non Attila. Perché nell'istruzione che ha ricevuto è più facile che abbia letto romanzi, scritti, cose di questo genere, dove uno incontrava un amico e un parente che non Attila o Vercingetorige. Quindi questo era solo per chiarire la definizione. Quindi un accumulatore di informazioni che poi ti fornisce in base alla probabilità. Tu hai scritto questo libro, Non siamo mai stati sulla Terra, come dicevamo, a quattro mani. Adesso spero di pronunciarlo correttamente, se no soffende, con Automat B13. Corretto. E all'interno del libro, abbiamo sentito adesso, durante l'incontro, hai un po' insegnato anche l'ironia. Ho provato a scherzare, ridere e fare dell'umorismo con l'intelligenza artificiale. Com'è andata? Sì, è preciso che Automat B12, B13, è il nome de plume, che vuole usare a questo linguaggio GPT, così per rivestirlo di un'aura di maggiore attendibilità. L'impresa umoristica, se così si può definire, nasce da due fattori. Una, è vero il fatto che la macchina apprende, sempre facendo il segno delle virgolette quelle di noi giovani, la macchina apprende in modo da darti soddisfazione. Se tu hai scritto una certa cosa, cerco parole che vadano bene. Ti vuole farti sentire bene. Quindi se io scrivo una scemenza, è probabile che la macchina mi risponda una attendibile scemenza. Un'altra componente che conferisce scemenza, quindi sperabilmente divertimento, è il fatto che è tutt'altro che perfetta questo meccanismo. Tanto più, perché quando io ho scritto questo libro non esisteva il noiosissimo Chad GPT odierno, estremamente corretto, che non dice parolacce, che non si lascia andare, che... Così radical chic come diventato. Molto radical chic. Citavo prima l'esempio dell'ipotesi del treno delle persone sdraiate. Poi so che tu ne farai un riassunto adeguato, se no adesso... Sì, sì, che sto già scrivendo, quindi dopo poi metteremo sotto un riassuntone di tutto. Di questo, grazie. Quindi saprete, o avete già saputo. Diciamo che per fare e tirare le somme di necessità-virtù, nel senso più classico del termine, la necessità è l'inadeguatezza del sistema attuale. La virtù è il risultato positivo che ne deriva. Se riesco a mettere insieme una storia che per quanto sconclusionata ha un inizio, uno sviluppo è una fine ed è pure soddisfacente dal punto di vista letterario, credo di avere fatto della necessità, cioè della imperfezione della macchina, un dato positivo. E quindi io per concludere questa intervista ti chiedo, bisogna averne paura o no? Perché la conclusione del vostro intervento Beppe Cottafa vi diceva giustamente che non bisogna averne paura. Secondo te, bisogna averne paura o no? Vorrei avere lo stesso approccio positivo. Credo che invece un po' sì, perché diciamo che non esiste la possibilità che questa tecnologia regredisca. Ok? Può diventare solo, sempre più attendibile e sempre più invasiva a meno di un intervento d'autorità. È illegale usarla se la usi e vai in prigione. La useranno lo stesso, qualcuno andrà in prigione, altri non ci andranno. Però bisogna averne paura, nel senso che non bisogna scambiare, almeno nella sua forma attuale, questo mezzo come una sorta di essere onnisciente che ti dà risposte affidabili. Ci sono persone che con chat GPT si sono fatte autodiagnosi. Io ho questi sintomi, cosa pensi che sia? Lui ti risponde, non sono in grado di dare informazioni mediche, tu insisti e ti dice allora forse hai l'indigestione all'ipotalamo. E uno si convince che esista l'indigestione all'ipotalamo. Devono averne paura, purtroppo, certe categorie professionali, perché l'abbiamo visto nel campo dell'illustrazione. Ho fatto alcuni esempi, chi conosce Midgiorney lo sa bene. È vero che attualmente si può saltare in modo completo l'apporto di un illustratore in carne ed osa o di un fotografo per costruire un'immagine sintetica esattamente adatta alle proprie esigenze. Quindi sì, ci saranno delle persone che hanno perso il lavoro e lo perderanno. E ci saranno sempre più specializzazioni in questo senso, ma ci sarà anche sempre più caos, perché non troveremo più un impiegato dall'altra parte di un filo a risponderci al telefono, ma soltanto delle ragionevoli attendibili chat. Però faccio questo esempio. Sicuramente gli spazzacamini erano tristi quando sono subentrati i termosifoni. Però questo doveva succedere, che i fumosi, pericolosi e inaffidabili camini fossero sostituiti da qualcosa di più pratico. E gli spazzacamini avranno cambiato mestiero e si saranno messi a vendere termosifoni. Saremmo tutti degli spazzacamini moderni. Quindi diamo un consiglio, come dicono in una famosa serie italiana con un acronimo, NAMACISSI, non andare mai a cercare i sintomi su internet, non fatelo neanche su CiaGPT e poi CiaGPT, volemo sebbene, andiamo avanti insieme, però cerchiamo di... Diciamo, io al mio posto e tu al tuo. Esattamente. Non voglio sembrare troppo milanese in questa cosa, però mi rivolgo direttamente alla telecamera, come se parlassi con GPT. Uè, ciccetti, calmino, eh? Signore e signori, Rocco Tanica, grazie Rocco per essere stato con noi. Grazie a te e grazie a voi.